Somiglia a un braccio di ferro quello tra i commercianti pescaresi ed amministrazioni maschi che però sta avviando tavoli concreti di lavoro in vista del Natale. Cosa si può fare per attrarre la clientela tenendo conto anche del cantiere in centro? Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA rispondono ad alcune proposte dell'assessore cremonese e dicono la loro su come dovrebbe essere Pescara durante le feste. Una città bella, una città addobbata con luminarie e con alberi di Natale, una città con una filodiffusione che accompagna l'utenza a frequentare le attività commerciali e a vivere la città. Una città dove ci desideriamo che l'amministrazione offra delle microattività. Nello stesso tempo noi come associazione di categoria abbiamo chiesto e chiederemo ai commercianti che vogliono fare dell'oro di adoperarsi per fare delle microattività. L'aiuto concreto dell'amministrazione consiste nell'andare incontro alle esigenze dei professionisti del commercio alleggerendo per quanto possibile il carico organizzativo. Naturalmente questo non deve pesare sull'organizzazione di un commerciante nel chiedere occupazione del suolo pubblico, pagamento dell'asea e quant'altro ma deve essere incluso in un pacchetto con l'amministrazione che crei comunque un'attività e una città natalizia. L'assessore Cremonese aveva proposto l'avvertura serale dei negozi, cosa rispondete e cosa pensate? In un periodo invernale non abbiamo visto mai nessuna città che rimanga aperta dopo le 8 anche perché le temperature, seppur in una città mite, sono temperature che non lasciano possibilità all'acquisto. Oltretutto durante il periodo di Natale, giusto che si sappia, gli orari delle attività commerciali per lo più nel fine settimana sono ad orario continuato, il personale è già comunque sotto stress per un carico di lavoro eccezionale che speriamo che sia eccezionale naturalmente quindi dire che i commercianti non vogliono aprire, non comprendono che le dinamiche del Natale si passino anche attraverso le aperture ulteriori dopo le 8 di sera, insomma non è cosa corretta.